Renault Captur in allestimento Zen, con motorizzazione 1000 benzina da 101 CV, immatricolata nel 2020 e con soli 63.000 km. E partiamo subito dagli esterni dove gli unici inestetismi da segnalare sono questi qui, per i quali già il proprietario ha provveduto a prendere appuntamento per la sistemazione. Poi troviamo gruppi ottici originali, cerchi in lega da 17 pollici e calotte degli specchietti nere a contrasto con la carrozzeria con frecce integrate. Abbiamo verificato il dotte dei cristalli e risultano essere tutti originali e sul retro vi segnaliamo la presenza dei sensori di parcheggio posteriori. Cosa importantissima da sottolineare per quest'auto è che è un'auto unico proprietario. E adesso spostiamoci negli interni che dato che parliamo di un'auto pari al nuovo sono ovviamente in perfetto stato. Ci accolgono subito questi bellissimi sedili con questa tonalità di colore che va dal grigio jeans al nero con questa trama molto particolare con cucitura a contrasto bianche. Poi troviamo volante in pelle in perfetto stato con nessun danno da segnalare con comandi al volante come cruise control e richiamo vocale. Tra i sistemi di sicurezza è presente l'ane assist. Troviamo poi un display per l'infotainment ricco di funzionalità tra cui Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore manuale, prese USB e AUX e infine cambio manuale a 5 rapporti. Vi ricordo che potete venire a vedere e provare l'auto su strada. Inoltre per avere maggiori informazioni riguardo il prezzo e gli accessori cliccate sui link in descrizione. Grazie. 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 Grazie.